Musica Liberi.tv Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per il Cleto Festival della seconda giornata in compagnia del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, buonasera Buonasera a voi, grazie Volevamo chiederle l'importanza di valorizzare dei luoghi come in questo caso Cleto vista la bellissima riuscita da quando lei è appunto sindaco di Napoli della rivalutazione di Napoli stessa, dei centri storici e di comunque vedere come dal basso nascono delle iniziative che valorizzano ancora più quello che magari la politica normalmente non riesce Ma Napoli è ripartita proprio dalla sua bellezza, dalla città, dalla cultura, dai suoi abitanti dal prendersi cura del territorio e tutti i cittadini, tutti gli abitanti di un territorio si devono prendere cura della propria terra e così è rinata una città che era mortificata dall'emergenza rifiuti, dal degrado, dalla corruzione e il popolo è diventato il protagonista del cambiamento quindi è bello che questo accada nelle grandi aree urbane come Napoli ma anche nei piccoli comuni come Cleto Ci vuole però sempre qualcuno che ci metta la faccia e dobbiamo dire la verità, lei ha sempre messo la faccia ed è stato anche irremovibile sul dire no a persone che magari le andavano e le remavano contro Beh certo, io mi sono messo contro il sistema da quando sono entrato in magistratura l'ho fatto da magistrato, molto anche qua in Calabria ho pagato anche un prezzo personale istituzionale molto alto adesso lo sto facendo da sindaco e credo che alla fine i cittadini hanno apprezzato onestà, passione, autonomia, coraggio, audacia fino anche a un po' di follia perché poi mettersi contro un sistema affaristico, criminale e mafioso non è facile però mi sono sentito molta gente al mio fianco ed è una bella storia amministrativa e politica di autonomia fuori dai grandi partiti Per esperienza personale cosa consiglierebbe a qualunque comune, anche piccolo centro, piccolo borgo come questo che è tra i borghi più belli d'Italia per rinascere e per dare una svolta positiva al sud che spesso è visto come l'ultimo baluardo e invece in questo caso non lo è Puntare proprio sul territorio, sulle tradizioni, sulla bellezza e l'originalità del paesaggio sulle arti culinarie, sui mestieri, sulla passione bisogna amare la propria terra, appartenere alla terra non appartenere alle lobby, alle mafie, alle congreghe, alle massonerie deviate troppo spesso in Calabria si dice a chi appartieni nel senso che devi appartenere a qualcuno invece è bello dire appartengo a Cleto, appartengo alla Calabria, appartengo a Napoli appartengo alla Sicilia, il sud deve ripartire da questo senso di orgoglio e di appartenenza rompere catene e togliere quinsagli Perfetto Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cleto Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti